Castilenti, Castiglione Messerraimondo, Bisenti, Arsita e Montefino in provincia di Teramo, oltre ad Elice per la provincia di Pescara, sono queste le zone rosse d'Abruzzo, istituite con l'ordinanza numero 10 firmata dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio nel tardo pomeriggio e che varrà fino al 3 di aprile. Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici fatta salva, l'erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità, sospensione di tutte le attività produttive e commerciali, ad esclusioni di farmacie e dei generi alimentari e di tutte le attività della filiera agroalimentare e sanitaria, sospensione di tutti i cantieri di lavoro, chiusura dei parchi pubblici e delle aree sportive a libero accesso, soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, chiusura dei cimiteri. Queste le limitazioni previste nell'ordinanza della regione Abruzzo, immediatamente esecutiva. Alla base del provvedimento c'è il carattere estremamente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi di decesso. Decreto che è stato oggetto di incontro tramite conference call con i sindaci della zona, la zona dell'Alfino, la zona della Vestina, e a seguito di questi incontri anche con i vari direttori generali delle ASL, in questo caso dell'ASL di Teramo e dell'ASL di Pescara, oltre all'assessore Nicoletta Berì, si è deciso di fare questo atto forte, atto richiesto dai territori, atto dovuto e penso che questo atto sia importante per sconfiggere in maniera ultima questo virus terribile che sta attanagliando l'Italia non solo. La decisione presa dalla regione Abruzzo lascia fuori il comune di Penne che pure nei giorni scorsi aveva richiesto misure più restrittive per cercare di contenere il contagio. Non ci sono però i requisiti tecnici per applicare una misura del genere come non ci sono ancora in altri comuni abruzzesi come ad esempio a Dortona. Il presidente della regione Abruzzo prima di firmare l'ordinanza ha atteso diverse ore affinché il governo potesse esaminare il provvedimento. Nel corso della videoconferenza con il ministro Boccia ha affermato Marsilio prima di me la questione relativa a nuove zone rosse o provvedimenti restrittivi è stata sollevata dalla regione Molise. Prima che io intervenissi ha continuato il governatore della regione Abruzzo il ministro ha ribadito l'avviso contrario del governo salvo provvedimenti più restrittivi con fondamento scientifico anche alla luce delle impossibilità di gestire con le forze dell'ordine la richiesta di centinaia di comuni. Ho spiegato al ministro continuo in una nota Marsilio che il provvedimento da adottare che ho sottoposto alla condivisione del governo ha basi scientifiche e argomentazioni supportate dalle relazioni delle Asle. Un ultimo pensiero il presidente della regione l'ha voluto dedicare ai cittadini delle zone rosse a cui ha rivolto la raccomandazione di non uscire di casa e di collaborare per cercare di venire fuori al più presto dalla difficile situazione di emergenza.